Sindaco Cereser sta partendo con Città di San Donà che è capofila, Città di Musile e Città di Noventa un progetto che riguarda i distretti urbani del commercio. Che tipo di progetto si tratta? Beh, è una iniziativa partita dalla Regione ancora diversi anni fa, per cui questa è la terza edizione alla quale partecipiamo come Comune di San Donà. La novità di questa edizione è che abbiamo allargato oltre che al Comune di Noventa anche al Comune di Musile e di Piave. È una iniziativa che ha uno scopo quello di aiutare le attività del commercio nelle zone urbane centrali dei comuni del Veneto che in questi anni hanno subito una serie di difficoltà legata dapprima allo sviluppo dei centri commerciali periferici e poi successivamente dall'avvento e lo sviluppo del commercio elettronico. Siccome una città non può vivere e un centro città non può vivere senza una dimensione commerciale, questa è una iniziativa più che opportuna, vista la difficoltà in cui stanno versando molti centri urbani con negozi sfitti che attendono di trovare una nuova destinazione. Ecco, tra gli obiettivi ci sono il rafforzamento della capacità competitiva dell'offerta cittadina del commercio e la costruzione di un'identità territoriale forte. Su questa parola, identità territoriale forte, cosa significa, come intendete agire? Sandonano, Vente e Musile sono normalmente comuni di attraversamento per chi dal centro Europa o dal resto d'Italia deve raggiungere le spiagge oppure per chi fa un'esperienza anche di tipo commerciale utilizzando l'outlet che in un anno conta all'incirca 4 milioni di visitatori. Quindi il tema di raccontare che cosa siamo, chi siamo e che cosa abbiamo da offrire per chi solamente attraversa è un motivo importante per invitare queste persone oltre che a passare anche a fermarsi. È un percorso lungo che passa anche attraverso un'identità di territorio che per noi è legata sicuramente al fiume Piave, alla dimensione storica della Grande Guerra, al paesaggio della Bonifica. Abbiamo molte risorse, ne cito un'altra per quanto riguarda il confine del comune di Musile, è un sito UNESCO che è la Laguna di Venezia, dobbiamo imparare a raccontarle ma far sì che il racconto non sia solo ad opera di amministratori ma diventi un elemento importante per tutti i residenti. Il distretto del commercio ha un nome, si chiama Fare Centro, Fare Città. Quali sono gli step che state percorrendo? Sono diversi, toccano le politiche urbanistiche, nel momento in cui non andando a consumare nuova campagna per la residenza decidiamo di incentivare il ritorno della residenza in centro. Sono iniziative che riguardano politiche fiscali, ad esempio per agevolare la possibilità di utilizzare dei plateatici. Sono politiche che riguardano anche misure di promozione delle vetrine, ad esempio l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini consentirà a loro di ottenere dei crediti che si possono spendere nelle attività del centro per prendere un caffè o acquistarsi un biglietto al teatro. Sono iniziative che riguardano anche le infrastrutture, nel caso specifico di San Donà la scelta di pedonalizzare un tratto di corso Silvio Trentin nasce dalla convinzione che per portare i cittadini in centro bisogna allontanare le automobili e quindi allontanare il rumore, allontanare lo smog e quindi creare un ambiente dove uno possa sostare in condizioni favorevoli. Ci sono anche degli studi su questo? Ci sono degli studi e delle esperienze di confronto anche a livello europeo di cui siamo stati capofila e che confermano l'opportunità e necessità di queste misure. È un pezzo importante del percorso infrastrutturale, compresa anche la possibilità di agevolare il fatto di arrivare in centro a piedi oppure in bicicletta attraverso una rete di piste ciclabili da percorrere in sicurezza. Quanto è facile e quanto è difficile mettere assieme tre città su un progetto di questo tipo? Devo dire che la necessità di convolgere più risorse per un unico obiettivo, per quanto difficile possa essere, non ha oggi alternative e non riguarda solo le amministrazioni, riguarda anche la capacità di, come si dice, fare squadra con gli stessi esercizi commerciali, con le associazioni, con le scuole. Ad esempio uno dei motivi che rendono interessante il centro della città è l'esperienza del Giffoni dove sono i ragazzi stessi che si appropriano degli spazi e fanno vivere il centro. Quindi o ciascuno fa la propria parte oppure gli obiettivi saranno difficilmente raggiungibili. Che aspettative vi state facendo nel breve termine, nel medio termine e nel lungo termine? C'è un indicatore sintetico, significativo, che noi monitoriamo con frequenza regolare ogni sei mesi ed è il numero di vetrine sfitte. Su circa 550 spazi all'interno del distretto urbano del commercio di San Donà, gli sfitti sono intorno al 12,5%. È un valore sicuramente migliore rispetto alla media di molte altre città venete. Penso a Piazza Ferretto dove si raggiunge il 25%. Nel nostro caso, fino a che non saranno tutte occupate, comunque non ci si rilasserà. E quindi faremo un'azione di convocazione dei proprietari o delle agenzie che hanno in mano questi spazi e capiremo con loro come riuscire a occuparli con attività nuove, non solamente commerciali, come è avvenuto ad esempio in Galleria Bimbi, dove siamo arrivati alla piena occupazione degli spazi. Ecco, questo è un progetto che sta per partire, si svilupperà nell'arco di 18 mesi. Come comunicherete anche tutto questo? Beh, questi mesi li abbiamo utilizzati per mettere a punto il progetto rispetto alla proposta che avevamo fatto ancora lo scorso anno, perché l'anno scorso il Covid non esisteva. Quindi la situazione che si è generata quest'anno, che vede tra l'altro come partner Atvo, quindi azienda di trasporti che in questi mesi sta vivendo una situazione particolarmente difficile, ci ha portato a doverci confrontare nuovamente con loro, con Ascom e con le altre amministrazioni per decidere quali azioni confermare e quali azioni modificare. Per cui, ad esempio, con Atvo abbiamo confermato il progetto di sviluppare un progetto di trasporto pubblico-locale urbano nel momento in cui le due stazioni, quella dei treni e degli autobus, saranno riunite in un unico polo intermodale per consentire alle persone di muoversi, cosa che è un diritto di tutti i cittadini, senza necessariamente dover usare la propria automobile. In conclusione, Sindaco, ci riassume brevemente quali sono i benefici che queste città dovrebbero trarre da questo progetto e, in ultima battuta, com'è la Sandona del futuro che vorrebbe vedere? I benefici sono legati alla consapevolezza che un centro città e una città per funzionare deve avere un cuore pulsante. Questo è dato dai residenti, da chi la visita, da chi ci lavora, ma una componente importante è quella delle attività commerciali. L'attesa che io ho è quella di non avere vetrine vuote, spazi sfitti all'interno del centro urbano, in modo che questo assolva anche una funzione sociale, cioè di un luogo dove si possa andare volentieri per darsi un appuntamento, incontrare e abbracciare gli amici quando finalmente potremo farlo, cosa che si faceva 30-40 anni fa e che poi ci siamo disabituati a fare. È una sfida importante, nessun comune oggi può dire di avere una ricetta in tasca, è un problema che condividiamo con tutte le città delle nostre dimensioni, ma sicuramente è alla nostra portata e potremo anche vincerla.